San Paragorio San Paragorio è una chiesa di noli romanica con l'asse abside facciata orientato secondo alcuni studiosi a 104 gradi e secondo altri a 107-108 gradi questo orientamento fa sì che al solstizio del Stato in prossimità del solstizio il sole che entra dalla monofora della vecchia facciata ha un percorso tale per cui poco prima di tramontare il lumine in maniera intensa la descrizione che c'è alla base del tabernacolo appena attraversato l'iscrizione il sole tra virgolette si spegne perché per così dire si ecclissa attraverso la monofora la lama di luce attraversa questa parte arriva fino alla descrizione la base del tabernacolo è arrivata qua dovrebbe spegnersi la base del tabernacolo è arrivata qua la base del tabernacolo è arrivata qua la base del tabernacolo è arrivata qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti